non mi sembra niente di particolare non è che c'è un suono che dà fastidio per me è figo però sono tanti che sono molto standardizzati scusa ma vedi che non c'era prima ti dicevo la parte è la sola così la seconda parte la aggiungiamo da 2 media 9 meter l'aria la parte è la seconda parte